Scenderà sotto i 120 punti base? Sarà compreso tra i 120 e i 200 punti base o salirà oltre i 200 punti base? Tocca a voi. Scenderà sotto i 120 punti base quindi continuerà il trend positivo per quanto riguarda il nostro paese vuol dire che da un lato la ripresa che continua piano piano a farsi sentire ma è che probabilmente i fattori internazionali non peseranno così tanto sulla nostra economia dall'altro invece il 33% di voi pensa che sarà compreso tra i 120 e i 200 punti base un range abbastanza largo solo l'11% penserà che tornerà a salire oltre i 200 punti base ovviamente non ce l'auguriamo perché questo vorrà dire ancora tensioni soprattutto per quanto riguarda il nostro paese il nostro debito pubblico ma probabilmente anche segnali della nostra economia che non confermeranno il trend che sembra essere iniziato giusto da un paio di mesi.